Oggi abbiamo concluso le audizioni relative al versante Aquilano e Terramano. Oggi infatti in commissione sull'emergenza idrica abbiamo ascoltato le delegazioni di GSA, quindi Gran Sasso Acque, e di CAM del Consorzio Acquedottistico Marsicano. Entrambe le società ci hanno evidenziato i soliti problemi, quindi dispersioni, qualche allaccio abusivo, o qualche per GSA, diversi allacci abusivi e utenze abusive per CAM. La soluzione è sempre la stessa, dunque per seguire la distrettualizzazione e la digitalizzazione con dei progetti che sono stati presentati per attingere i fondi del PNRR, cosa che CAM è riuscita a fare e sarà finanziata, cosa che invece GSA non è riuscita a fare. Il presidente di GSA, comunque la delegazione di GSA, ci ha detto che secondo loro, secondo il loro punto di vista, non sono riusciti ad ottenere il finanziamento perché sarebbero stati troppo realistici nella stesura del progetto e quindi il punteggio è risultato più basso, ma questo non vorrà dire che non potranno comunque attingere a quel fondo in futuro. Quello che resta è certamente per quanto riguarda CAM un grave problema di indebitamento dovuto sia al concordato in essere e sia soprattutto alla crescita esponenziale del costo dell'energia che è di fatto raddoppiato dall'anno scorso a quest'anno e che ha comportato un incremento addirittura di quasi 10 milioni di euro. Incremento senza il quale, dice il presidente di CAM, noi saremmo in grado di sopportare anche le rate del concordato preventivo, cosa che invece al momento non si riesce a fare e cosa per la quale evidentemente l'ipotesi del fallimento è ancora sul tavolo. Il presidente di CAM ci dice se io fossi un creditore di CAM non la vorrei veder fallita e quindi con un atteggiamento di prudenza anche abbastanza realistico ci ha detto che forse il fallimento è evitabile, ma insomma l'ipotesi esiste. Nella prossima seduta della commissione di inchiesta sull'emergenza idrica audiremo ACA e quindi passeremo al versante Pescara-Chieti.